La sterilizzazione degli strumenti è davvero importante, sia per il mio lavoro che per chi fa il piercer, il tatuatore, il dentista e il barbiere. Insomma, chiunque utilizzi strumenti taglienti che stanno a contatto con il sangue. Per me questa autoclave è il top, perché è piccola ma spaziosa. Può contenere fino a otto set di strumenti imbustati, è silenziosa e è veloce. Può sterilizzare anche in sette minuti. E queste sono le colorazioni.